Il concorso è stato bandito poco prima di Natale dal convegno Maria Cristina di Savoia e i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado sono stati impegnati nel disegnare un biglietto di auguri dal tema Natale in famiglia. L'intendo del convegno era quello di far riflettere gli adolescenti che il Natale va vissuto nell'intimità della famiglia va vissuto nel modello della famiglia di Nazareth per allontanarli un po' dall'idea consumistica che oggi abbiamo del Natale. Più presepe e meno alberi, più amore e meno regali, più serenità e meno discordia. Come hanno accolto l'iniziativa i bambini e su quali basi sono state scelte le creazioni migliori? L'iniziativa del convegno di cultura Maria Cristina di Savoia sta avendo grande successo soprattutto perché investe uno degli ambiti più privilegiati che è quello della famiglia che è il tema centrale di quest'anno. I ragazzi hanno accolto favorevolmente anche perché come ha indicato il Presidente, la Presidente hanno cercato di descrivere nei biglietti augurali il significato della famiglia. Certamente sul modello della famiglia di Nazareth ma a noi interessava trasmettere il concetto di famiglia così come il Vangelo ce l'ha consegnato. I criteri sono stati certamente quello dell'estetica ma anche soprattutto quello del significato che i ragazzi hanno voluto addurre al biglietto che hanno voluto realizzare. Certamente è un pretesto per sensibilizzare a una partecipazione attiva dei ragazzi, sia le tematiche che abbiamo loro proposto, è quello di informare sul valore della famiglia che per noi è fondamentale nella nostra società. Cosa hai voluto rappresentare attraverso questo disegno? Innanzitutto l'intimità della famiglia come ha detto la Presidente. Volevo diversificarmi dagli altri perché comunque nulla togliere agli altri concorrenti, mi aspettavo che comunque avessero disegnato presepi e comunque queste cose e quindi volevo disegnare qualcosa di diverso per distinguermi. Ma comunque tutti gli altri disegni sono bellissimi, non voglio togliere niente da nessuno dicendo queste cose. Che cosa ti ha ispirato? Il tema del concorso comunque è molto significativo quindi mi è venuto fuori così nulla di... A chi dedichi questo premio? Alla mia famiglia e a tutti coloro che mi hanno appoggiato.